Ciao tesorine, oggi video informativo perché volevo dirvi che sulla mia pagina facebook ho deciso di indire un giveaway per voi perché so che tante purtroppo non sono iscritte qua su youtube e quindi non hanno mai la possibilità di partecipare a questi giveaway e quindi spero che vi faccia piacere, il premio è veramente piccolino però fatto col cuore come al solito quindi spero vi piaccia, è un mix di campioncini che ho ricevuto dall'iPump, se non avete seguito quel video ve lo lascio qua così andate a sbirciare tutto quello che ho ricevuto e ho voluto dividere con voi tutti i prodottini perché erano veramente tantissimi quindi qua ci sono tutti i campioncini, ci sono solari, ci sono creme corpo, creme occhi, creme viso, sieri, shampoo, balsamo c'è veramente di tutto, sono tutti marchi bio quindi che possono andare bene a tutte anche chi ha qualche allergia spero che questo pensierino vi piaccia, il link diretto alla mia fanpage così poi andate a vedere la foto e potete commentare quindi praticamente come al solito basta essere iscritte al mio canale youtube per chi è su youtube poi mettere il mi piace alla mia fanpage e commentare sotto la foto la data di scadenza ve la trovate sulla foto perché ora come ora non vi so dire in bocca al lupo a tutte e noi ci vediamo prestissimo ciao 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 ciao